Come d'abitudine io trasmetto due tipi di messaggio, il primo messaggio lo trasmetto all'inizio dell'anno sociale, quando ci incontriamo dopo le vacanze e questo messaggio deve essere un'indicazione su come fare il nostro percorso spirituale, mentre invece all'inizio dell'anno solare, cioè in occasione del Capodanno, in genere io trasmetto un messaggio che riguarda il comportamento nella vita di tutti i giorni, che si basa su delle riflessioni che io ho fatto in merito a come andranno le cose nel corso dell'anno e quindi quest'anno non sto a dire che cosa abbiamo detto gli anni scorsi perché tanto non mi interessa più nessuno, gli anni sono passati, ma abbiamo nel corso degli ultimi tre anni dato delle indicazioni sulla grande trasformazione che sta avvenendo nella vita di tutti, tre anni fa abbiamo detto preparati ai cambiamenti, due anni fa abbiamo detto attenzione che i cambiamenti sono prossimi e quindi ci sarà la necessità di essere pronti, l'anno scorso abbiamo detto i cambiamenti stanno avvenendo e quest'anno 2019 devo dire che sarà veramente l'anno dei cambiamenti, cioè tutto cambierà, ci saranno delle grandi trasformazioni. Quindi questi cambiamenti nel 2019 ci porteranno a staccarci, staccarci dalle cose, staccarci dalle persone, staccarci dalle attività, dagli impegni gravosi e dalle lavori di ogni genere. Io non voglio dire che noi ci staccheremo a 360 gradi dalle persone, dalle cose, dal lavoro eccetera, ma ognuno di noi potrà verificare nel corso dell'anno che qualcosa per lui cambia, che magari ci saranno dei cambiamenti nel lavoro, ci saranno dei cambiamenti nelle case, ci saranno cambiamenti nel nostro percorso di vita, ci saranno senz'altro anche dei cambiamenti dovuti alle nostre scelte, cioè noi sceglieremo magari di orientarci verso un'esistenza magari un po' più, un po' meno affannosa. E questo non è naturalmente lo staccarci un fatto che dipende assolutamente dalla nostra volontà. Tante volte saremo costretti dal fatto, dagli avvenimenti a verificare che questa separazione dalle cose avverrà e dunque il mio messaggio che è legato a questo, si basa principalmente sulle trasformazioni, cioè quest'anno per molti di noi cambieranno delle cose. E dunque ho pensato che dobbiamo essere pronti a ricominciare, dobbiamo essere pronti a eliminare le zavorre, come ho detto, a eliminare gli ostacoli, dobbiamo essere in grado di allontanarci da quello che ci crea disagio e sofferenza, perché questo staccarci non vuol dire staccarci dalle cose che ci piacciono, vuol dire staccarci prevalentemente dalle cose che ci fanno soffrire. E dunque eliminiamo le cose che creano disagio e sofferenza e affrontiamo serenamente ogni trasformazione, piccola o grande che sia, perché questo farà parte del nostro 2019. Questa è la mia previsione, quindi la parola d'ordine che io trasmetto oggi e che vale per il 2019 e che vi prego di tenere in mente sempre per quest'anno è lascia la presa, lasciate la presa, perché se state attaccati verrete trascinati a fondo. Lasciate, lasciate che le cose scorrono, lasciate andare, non restate attaccati alle vostre idee, non restate attaccati alle cose materiali, non restate attaccati alle persone, lasciate che tutto avvenga e se voi permettete che le cose fluiscano, alla fine dell'anno saremo ancora tutti a galla, se invece restate attaccati non so dove vi porta la vostra barca. Quindi ricordatevi bene la parola d'ordine 2019, lascia la presa. Grazie.